Come si può controllare la rabbia? A volte quando ci arrabbiamo perdiamo controllo delle nostre emozioni ed esageriamo e poi ci dispiace tanto perché abbiamo detto parole troppo dure, troppe cose che non dovevamo dire e vogliamo imparare oggi come si può controllare questa rabbia. E controllarla prima di un divorzio, prima di una lite, prima di che succeda qualcosa di irreparabile, poi vengono separazioni, perdi gli amici migliori, va bene fratelli? Cerchiamo di imparare a controllarsi, andiamo. Il fratello è in linea e facciamo il collegamento con Nicola. Pronto? Sì, eccomi qua. Ciao Nicola. Ciao carissima, se non fai la voce sei Angela, giusto? Sì, sono Angela, ti vedo. È un piacere sentirti, è un piacere parlare con tutti voi e avere questa opportunità. Oh, piacere è tutto nostro. Tu sei un fratello così dolce e prezioso, sempre ci mandi messaggi ispiranti, bellissimi, hai una bella famiglia, vi amiamo tutti. Io mi rendo conto sempre di più, strada facendo, che Dio di benedizioni me ne ha date, me ne sta dando e lo ringrazio ogni giorno e ogni sera. La cosa che ho cercato di fare più mia di tutte le cose che dice il fratello Giuseppe è di ringraziare Dio come prima cosa la mattina e come ultima cosa la sera. E questa è una cosa che cerco sempre di fare ogni giorno. Il primo pensiero, buongiorno Signore, buongiorno Gesù, la mattina e buonanotte la sera. E la vita diventa più bella? Ma sono cambiate diverse cose, oserei dire, dalla prima volta in cui ci siamo sentiti fino ad oggi. Stanno cambiando e tutto sommato vedo la mano di Dio che lavora per aiutarmi perché non è molto che ho chiesto anche, che mi sono inginocchiato, ho chiesto un aiuto proprio a Gesù, ho detto Gesù portami dove devi portarmi tu. E vedo che si sono mosse alcune cose anche a livello economico perché i tempi sono difficili e onestamente non sapevo un po' dove battere la testa. Magari dopo se volete ve le racconto anche un po', si sono girate un po' di cose, si sono mosse e nell'animo sono anche più tranquillo. Dopo magari approfondiamo se c'è il tempo. Sì, va bene. Quindi la cosa principale che oggi vorresti pregare e consigliarti con noi è cosa? Guarda, io vi ho mandato l'audio, immagino l'abbiate sentito, è inerente a un episodio che mi è successo sabato scorso con mia mamma. Allora, devo fare una piccola colazione, non ne ha 85, ne ha 83 di anni, come ho scritto nell'audio. Ah sì, va bene. Nicola, sono arrivato, Dio ti benedica. Grazie fratello Giuseppe, Dio benedica anche lei e tutta quanta la vostra missione. Siete persone meravigliose e grazie per l'opportunità che mi state dando, insomma ecco. Senti, va bene se ci diamo del tu, ci sono problemi? No, per me va benissimo, è una cosa che, diciamo, soprattutto con le persone che hanno uno o due anni più di me, ma anche con quelli più giovani a volte, faccio fatica a dare del tu, se me lo dicono sì, ben volentieri. Sì, però mi sembra una forma di educazione a dare del lei, insomma, a chi ha più saggezza di me, se non altro, ecco. Mi metto dagli ultimi che ne hanno saggezza, ecco. Stiamo imparando qua. Cerco di darti del tu, ok? Sì. Va bene. Dicevo, no, e allora vi avevo mandato questo audio, mi è successa una cosa che mi ha fatto anche pensare molto in questa settimana, fondamentalmente di carattere io, ma devo essere onesto, magari salto anche via, mi irrito, non proprio facilmente, però tendo a volte, se uno mi dice una cosa, specie se sto facendo magari un lavoro che mi chiedono qualcosa per interrompermi, tendo un po' a spazientirmi, vabbè, è successo questo episodio, come avevo detto, ero giù, si affaccia la finestra mia mamma e mi dice, guarda la bombola del gas perché non funziona bene, non è che la valvola si è girata, ho detto, è che ho detto un po', ma forse magari con un tono più meravigliato, più per dire che è impossibile, ho detto, ma mamma, chi vuoi che abbia messo le mani sulla valvola della bombola, che è chiusa da sola, no? In quel momento mia mamma, che è una persona che ultimamente ha diversi acciacchi, anche un pochino permalosa, forse un pochino tanto a volte, ma anche lei lo ammette comunque questo, è partita per la tangente e ha cominciato a dirmi un po', ma guarda se tu mi devi sempre rispondere, insomma, la sentivo da giù nella finestra, no? E non avevo neanche fatto in tempo a dirgli, adesso comunque, che stavo mettendo via una tutta piena di erbe, che avevo finito con il decespugliatore, gli do comunque un'occhiata, aspetta un attimo che finisco qui, no, niente da fare, vabbè, arriva mia moglie, cambio comunque la bombola, perché non era la fine, ma magari ho detto, boh, proviamo a cambiarla lo stesso, infatti dopo funzionava meglio. E vado su in casa, come vado su in casa la trovo, lei è arrabbiata, e gli dico, ma hai ascoltato quello che ti ho detto laggiù, che sei partita per la tangente a brontolare, a dirmi, ma sei sempre il solito maleducato che mi rispondi, ho detto, ma hai sentito tutto il discorso che ti ho detto, che dopo ti avevo detto, niente da fare, non mi lasciava parlare, e continuava a dirmi, vai via, lasciami stare, non ho niente da dirti, e io che insistevo, ma fammi parlare, che ci spieghiamo un attimo, no, niente da fare, insomma, due o tre volte che continuava a dirmi, lasciami stare, che non ho niente da dirti, ad un certo punto, credo al terzo, lasciami stare, vai via di qui, che non ho niente da dirti, anche io mi sono come spazientito, no, e ho sentito, allora, oserei descriverlo come un attimo di ira che mi ha preso, però poi quello che mi è successo mi ha lasciato molto perplesso, nel senso che mi sono, è come se mi avessi visto per un attimo, io da solo, all'interno di una nuvola grigia, ho visto le mie maniche si sono chiuse a pugno, e era come se mi vedessi all'interno di questa forza che mi dirigeva, ma io non volevo fare questo, avere questo atteggiamento, insomma, sono partito per dare un pugno sopra la tavola, a pugni chiusi sopra la tavola, però sono riuscito a fermarmi e controllarmi, e in quell'istante ho cominciato a dire, mamma mia, non ne posso più, e ho cercato di dirigermi, mi sono spostato in corridoio, nel frattempo continuavo a dire, mamma mia, non ne posso più, non ne posso più, ed è arrivata mia moglie in quel momento, mi ricordo che mi ha preso, mi ha abbracciato e mi diceva, stai calmo, stai calmo, dentro di me, io ero consapevole, ma ero molto consapevole, che ciò che stavo facendo non andava bene, e mi dicevo tra me e me, mi devo fermare, quello che sto facendo è sbagliato, ma io, il mio corpo, non riuscivo a controllarlo, era come, per descrivere, per farvi capire, se una forza molto più grande di me, come prendere una bambola e muoverla come vuoi tu, e questa voce che mi veniva fuori dalla bocca, non era nei pensieri che avevo io, perché io mi dicevo, devo fermarmi, cosa sto facendo, calmati Nicola, mentre dalla mia bocca usciva, basta, basta, non ne posso più, e mi ricordo chiaro che ho detto forte, molto, signore fammi morire, non ne posso più, e a un certo punto mi sono girato e alzato in piedi, perché avevo dato anche due pugni per terra, e ho incrociato lo sguardo di mia moglie, in quell'istante lì mi sono come bloccato, guardandola negli occhi, e mi diceva fermati, calmati, e io gli ho detto, ok, lasciami pure andare, vado giù verso lo scantinato, così mi calmo e finisco di calmarmi, mentre andavo giù per le scale, ho detto, signore Gesù, aiutami ti prego, perché questa volta ne ho veramente bisogno, e come sono arrivato giù, tutta questa agitazione, cioè tutta questa rabbia era come sparita, però avevo in me molta agitazione, questo sì, perché una cosa del genere non mi era mai capitata, era come se io tentavo di controllare questa rabbia, questa forza, ma non, a mio avviso, per me è stata, infatti la mia paura era che questo sia stato un attacco del demonio, perché per me è stato incontrollabile, per quanto la mia volontà volesse fermarsi, io ero come una bambola di festa, gestita da qualcun altro, non c'era possibilità, e questo finché non ho incrociato lo sguardo di mia moglie, poi tutto è svanito, quando ho detto, Gesù aiutami tu questa volta, perché ne ho davvero bisogno, ecco, con il senno di poi, io ci ho pensato molto, poi nel pomeriggio vi ho mandato l'audio, perché ero molto frastornato da questa, perché poi ci penso, rimango molto male, quando succedono episodi che vedo che mi arrabbia, poi la colpa magari è anche mia, e la domanda che mi è sorta, ho detto, ma che sia stato un attacco del demonio o che Dio in un qualche modo, attraverso ciò che mi diceva mia mamma e gli occhi di mia moglie mi abbia liberato da qualche demonio, perché la sensazione che ho avuto dopo, però questo con il senno di poi, era come se mi sentissi una stanza svuotata, con tanta serenità dentro, la sera poi siamo riusciti a parlare con mia mamma, abbiamo fatto una bella chiacchierata e anche il giorno dopo, e oserei dire che forse ne è valsa anche la pena, abbiamo fatto veramente una bella chiacchierata, ci siamo un po' ritrovati anche in Dio, in Gesù, nel parlare di Dio e di Gesù, ecco insomma, la mia domanda era questa, subito io l'ho inquadrato come un attacco del demonio, può essere così o può essere anche che Dio mi abbia liberato da un qualche demonio che mi opprimeva anche nell'essere fastidioso, un po' come carattere, in questi giorni mi sento molto, molto sereno e tranquillo dentro, devo dire la verità. Quindi vuoi sapere se è stata una possessione o solo un attacco? Non, non, lo chiedo a voi perché non saprei come inquadrarla, proprio non saprei come inquadrarla, a primo pensiero mio ho detto è stato un attacco del demonio, però in realtà la sensazione che ho dentro adesso nel cuore e mi sento come una stanza svuotata di questa energia che mi faceva irritare, anche se la bambina mi combinano qualche guaio, mi viene da sorridere, dove prima mi infastidivo magari, ecco, mi sento vuoto e sereno dentro, cioè vuoto come una camera liberata da un qualcosa di negativo e perché, una cosa molto importante, quando ho sentito questa rabbia che mi assaliva, io ho sentito un fuoco da dentro, come un fuoco che mi bruciava, che è partito dal petto e che si è espanso fino a tutta la pelle, era come se un'energia da dentro, questo però con il senno di poi, è tutta la settimana che ci ragiono, era come se un'energia da dentro avesse buttato fuori, mi avesse svuotato in qualcosa di negativo, di fatti adesso io mi sento molto, molto più sereno, mi sento come una camera vuota da un qualcosa di negativo che c'era dentro, però questa è una sensazione Senti, Nicola, questo fuoco dentro tu l'hai sentito dopo quello che è successo con tua madre? No, no, subito, quasi immediatamente, come lei... Ma prima o dopo che hai detto? Sì Prima o dopo che hai detto quelle cose? Prima, prima Ho capito, vai avanti, sì, sì Come mia mamma è partita la prima volta a dirmi, no, alla terza volta che mi diceva o la seconda o terza volta, vai via da qui, lasciami stare, non ho niente da dirti e quando mi è assalito quell'attimo di ira, dopo l'attimo di ira, prima di chiudere i pugni ho sentito questo fuoco dentro di me e lì mi sono chiusi i pugni e ho cominciato a far fatica ero partito per dare questo pugno, però questo fuoco in un istante l'ho sentito pervadermi completamente da dentro e sentivo proprio tutta la pelle, nelle braccia, il viso, come se fossi infuocato poi mi sono spostato in corridoio, lì siamo andati avanti non ho ricordo di questo fuoco, se non in quell'attimo però dopo siamo andati avanti fino al corridoio e mi sono calmato solo quando i miei occhi hanno incrociato quelli di mia moglie poi andando giù per le scale ho detto sono riuscito a ritrovare anche forse il controllo della mia voce e allora lì sono riuscito a dire Gesù aiutimi perché questa volta ne ho molto bisogno e poi giù mi sono calmato perché poi siamo andati anche via dovevamo andare via a prendere del mais per le galline quando sono tornato abbiamo mangiato mia moglie mi ha chiamato giù un po' col muso però che avevo il turno di pomeriggio la pace, cioè la sera sono andato da mia mamma gli ho detto ti è passata questa rabbia anche a te ma io non sono mica arrabbiata ti ho detto quello che dovevo dirti e lì ci siamo messi a chiacchierare una mezz'oretta e il giorno dopo abbiamo fatto una bella chiacchierata ci siamo ritrovati, oserei dire ritrovati e ritrovati una domanda Nicola tu hai detto che, sto cercando di capire la cronologia qua cioè praticamente tua madre ha detto qualcosa che ti ha provocato e tu ti sei sentito di stringere i pugni hai picchiato il pugno sul tavolo e poi parliamo poi di quel fuoco che hai sentito quel fuoco ti ha fermato dalla tua ira o ti ha spinto nella ira? io ho sentito questo fuoco e poi è partita l'ira se devo essere onesto quindi dopo il fuoco? dopo il fuoco sì quindi il fuoco in un certo senso ha provocato l'ira? secondo me sì capito, sì, ho capito secondo me sì questo fuoco dentro ha provocato l'ira e che poi sia stato un fuoco che voleva buttarla fuori da me dal mio corpo questo io non riesco a discernerlo col senno di poi non lo so mi appello alla vostra esperienza la sensazione cioè quello che sento dentro dopo questo episodio io mi sento libero dentro e molto più sereno è come se qualcosa fosse uscito da me dopo tutta questa faccenda però il primo pensiero che ho fatto io è che il demonio mi abbia attaccato perché c'è un'altra cosa che mi stavo dimenticando dopo che ho cominciato il corso di liberazione e verso metà corso più o meno in scantinato avevamo una statua della Madonna di circa 40 centimetri che da dopo se ti ricordi il 22 ottobre avete fatto una trasmissione in cui mi avete spiegato alcune mie visioni dove praticamente ho avuto conferma del mio sentore che la Madonna le apparizioni mariane e pregare la Madonna è sbagliato sono tutti inganni del demonio non ho avuto il coraggio di prenderla e buttarla via l'avevo girata che guardasse il muro 15-20 giorni fa a fine del turno di lavoro dentro di me ho sentito devo andare a casa a fare qualcosa che dovevo fare molto tempo fa sono venuto a casa sono andato perché poi nel frattempo l'avevo spostata dallo scantinato al cappanone dove ho gli attrezzi sono andato a prendere questa statua l'ho guardata fissa in viso e ho detto siccome nel mio cuore io voglio solo Gesù e Dio e in te potrebbero esserci dei demoni io a Satana ci rinuncio non lo voglio nella mia vita ho preso questa statua l'ho messa per terra l'ho frantumata con il piede e l'ho raccolta e messa in un sacco delle immondizie non so, mi sono sentito così e ho detto dovevo farlo molto prima mi aspettavo in qualche maniera un attacco del demonio dopo questo gesto per questo interpreto quell'episodio forse come il più oserei dire potente forse di tutto ciò che mi è successo finora e e in quell'occasione lì mi ricordo che ho detto dopo aver frantumato la statua e adesso se vuoi se vuoi la guerra Satana vieni pure qui troverai Dio Gesù nel mio cuore non troverai altro e se guerra vuoi senti una domanda si ho detto si una domanda dopo che hai rotto la statua tua mamma cosa ha detto? no non lo sa non gliel'ho detto non lo sa e tua moglie cosa ha detto? non lo sa lo sta scoprendo adesso anche lei è qui seduta davanti a me chi? tua moglie? non lo sa si si è qui seduta ci siamo spostati in salotto perché la bimba chiedi a tua moglie cosa pensa del fatto che ha rotto la statua cosa pensi? eccola qua ciao a tutti ciao Jenny ciao Jenny sinceramente non mi fa né caldo né freddo perché non ho mai sinceramente non ho mai pregato la Madonna e non ne sento neanche la necessità io personalmente quindi non ecco tutte le statuine che sono in casa sono per sono della mamma quindi della mamma di Nicola io non statue mie cose non ce ne sono quindi sinceramente a me non fa né caldo né freddo senti Nicola si? per caso non è che vuoi andare a chiamare tua mamma e gli voglio gli voglio fare qualche domanda la vedo rischiosa posso la vedo un po' rischiosa perché avrai problemi dopo vuoi affrontare la situazione con tua mamma e la Madonna adesso o o preferisci di no? allora in questo momento meglio che evitiamo ho già provato in due o tre occasioni va bene ho capito a fargli no e lei è molto forse neanche proprio la Madonna lei è ancora mi ha detto che è ancora più devota al Sant'Antonio perché quando si è sposata non riusciva a rimanere incinta ed è andata a Sant'Antonio questa è una storia che mi ha raccontato un po' di tempo fa e mi ha detto che toccando credo la tomba del Sant'Antonio ha sentito come una specie di fuoco di sì una specie di un segnale comunque che le ha attraversato il corpo e dopo è rimasta incinta per cui ha detto che per lei Sant'Antonio io ho provato in due o tre occasioni a fargli capire guarda che comunque non è Sant'Antonio che è morto in croce e nella Bibbia uno Timoteo 2.5 ha detto un solo Dio un solo Mediatore perché dobbiamo ma perché a me ha aiutato io continuo così quindi la vedo dura portarla fuori da quel binario d'accordo ma poi lei ha 83 anni e lasciamola tranquilla allora è quello che ho pensato è quello che ho pensato anch'io va bene va bene va bene va bene se vuoi sapere c'è altro oppure preghiamo guarda se vuoi io vado avanti anche fino a domani ne avrei mille cose da raccontare da chiederti possiamo fermarci qui perché immagino che avete anche molte altre persone da accudire non solo me guarda faccio velocemente la trasmissione che avevamo fatto il 22 ottobre io l'ho condivisa per esempio perché mi rendo conto che è anche un discorso molto delicato andare a toccare cattolici e via discorrendo con una mia cugina molto cattolica molto religiosa e me ne ha dette di tutti i colori mi ha detto che io devo trovarmi intanto mi ha detto che devo andarmi a confessare perché la persona che tu stai seguendo mi sa molto di setta mi ha risposto e poi non siamo sette siamo otto ma anche con me mia moglie nove dieci sì me ne ha dette un po' di tutti i colori e mi rendo conto allora ho detto forse Gesù mi hai anche fatto fare questo sbaglio per farmi comprendere che forse è giusto che chi è magari lì bisogna lasciarlo un po' tranquillo non andare dentro una chiesa a dire ma guarda che stai sbagliando forse lì ho sbagliato io e me ne ha detto devo confessarmi sono blasfemo ho dei problemi devo trovarmi un padre spirituale perché quello che le ho vabbè insomma l'ho sconvolta dice mia moglie e mi rendo conto comunque è delicato è molto delicato il discorso bisogna infatti ho cominciato a chiedere anche a Gesù un po' di saggezza ho detto forse a volte conviene anche stare zitti beh come dici è molto saggio come tu dici di non andare in giro a offendere le religioni ne abbiamo parlato ne ho parlato proprio prima che non si va a provocare i vicini di casa per esempio tua madre c'è 83 anni insomma qui serve un piccolo miracolo perché lei dalla madonna si è esposti a Gesù Cristo e nient'altro che Gesù Cristo cioè c'è bello lavato così è come quando evangelici i testimoni di Geova i mormoni quelle sì che sono veramente delle sette e c'è anche della gente bravissima tra di loro per l'amor di Dio non voglio dire che io sono così tanto meglio di me di buono c'è solo Gesù e basta però dobbiamo avere pazienza e misericordia su questi cattolici protestanti che mettono la loro religione al di sopra del cristianesimo biblico le vere sette sono loro insomma perché per noi cattolici protestanti sono fratelli come facciamo essere delle sette che noi riceviamo tutti però i cattolici non ricevono i protestanti siamo andati in una chiesa cattolica eravamo lì nella zona in Italia tanti anni fa e c'era un prete molto molto simpatico perché stavamo evangelizzando delle pecorelle cattoliche e e allora questo qui che praticamente abitavamo a casa sua per un po' di giorni nel lattico e la sua moglie era assolutamente madonnara lui era no lui era più ragionevole e noi la moglie continuava e dice voi siete protestanti e no voi non pregate la madonna ma cosa c'entra se devo essere protestanti cioè io credo se nella bibbia pregano la madonna la pregherò anch'io non la pregavano e allora allora il marito insisteva che noi dovevamo andare in chiesa a prendere la comunione e dice non c'è problema noi la comunione la prendiamo le chiese cattoliche protestanti per noi basta che nel nome di di Gesù Cristo insomma ecco e allora ha chiesto al prete ha chiesto al prete senti vorremmo fare la comunione così però mia moglie è luterana ci sono problemi opp dice allora no non possiamo dare la comunione ai luterani e perché lei crede in Gesù Cristo no 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 i luterani la comunione non gliela diamo e allora mia moglie dice d'accordo cioè noi stiamo a litigare per l'amor di Dio poi io l'ho presa la comunione perché voglio far vedere a questi cattolici che non c'è nessun problema la comunione nel nome del corpo di Gesù Cristo cosa c'è di male il segno della croce l'ho fatto lo faccio lo faccio quando vado quando uno lo vuole imporre imporre che se non fai il segno della croce vai all'inferno e quello no perché nella Bibbia non c'è però lo faccio perché cosa che ai fratelli protestanti non gli piace molto ma insomma si arrangeranno e questa è la storia del prete cattolico che non ha voluto dare la comunione a mia moglie comunque nella comunione la facciamo in casa non c'è nessun problema bene c'è altro fratellino? ma no io oserei dire che possiamo fermarci qui comunque ecco inerente al primo discorso che facevo prima della Madonna il primo che ha tentato di avvisarmi che il discorso della preghiera della Madonna è stato un testimone di Geova che a quel tempo non gli avevo creduto per cui ogni anche pecorella di qualsiasi chiesa può in un certo senso è importante è importante chiunque creda con i limiti magari della religione a cui appartiene perché anche io comincio a pensarla no comincio sono convinto di quello che lei dice che sia giusto e non dovrebbero esserci religioni in Gesù Cristo dovremmo essere tutti uniti ed invece con le religioni anche in Gesù Cristo il mondo si è diviso e trovo strano che qualcuno non si ponga la domanda ma come cioè com'è possibile dividersi in Gesù Cristo scontrarsi ed essere arrivati anche a guerre o a cose del genere c'è qualcosa che non va anche nelle religioni e si vede che anche lì ci vuole credo la grazia di Dio che ti aiuta a comprendere queste cose se come è scritto nella Bibbia ci si irrigidisce di collo e ci si incapponisce a dire no la mia è quella giusta il risultato è il mondo che stiamo vivendo si si no sono d'accordo ma a me non mi sembri non mi sembri un tipo da esorcizzare troppo forse un pochino cioè non mi sembri cioè sicuramente c'è degli attacchi attacchi del diavolo ma non mi sembra che siano per colpa tua mi sembra che più che altro vengono da fuori vengono appunto della Madonna vengono Madonna falsa chiaro perché alla Maria vera ci crediamo è altro che se ci crediamo la mamma di Gesù ci mancherebbe altro è la falsa Maria la falsa la falsa Madonna che noi non crediamo perché se noi ci mettiamo a pregare una direzione diversa da quella giusta che è solo Dio nel nome di Gesù e allora facciamo entrare in nostra casa spiriti facciamo entrare spiriti che se non sono di Dio sappiamo da dove vengono e penso che sia il tuo caso quando quando tua mamma è andata a pregare sulla tomba di Sant'Antonio Sant'Antonio sicuramente è un uomo di Dio eccetera però Sant'Antonio pregava Gesù non pregava se stesso e allora quando tua mamma ha pregato sulla tomba tu mi hai detto che lei ha sentito sua madre ha sentito un fuoco e poi è rimasta incinta eccetera quindi lei dà la gloria a Sant'Antonio ma in realtà quello che è successo è che i bambini vengono da Dio e non da Sant'Antonio innanzitutto e poi praticamente il fuoco che tu hai sentito è lo stesso che tua madre ha sentito probabilmente sulla tomba di Sant'Antonio quindi sto fuoco che è provenuto dalla tomba di Sant'Antonio che poi non è venuto dalla tomba è venuto da qualche spirito qualche demone così quindi è lo stesso demone che ha attaccato te con lo stesso fuoco capisci e tutto è cominciato da una provocazione perché tu hai eliminato la Madonna eccetera e lo spirito che era in quella statua lì è furioso è furioso perché ha distrutto l'idolo ora siccome in certo senso tua madre è un po' sotto questa magia questo incantesimo questo spirito madonnaro diciamo falsa Madonna e allora tua madre è offesa ti offende infatti ha detto delle cose che ti ha in certo senso ti ha provocato e ti ha offeso ti sei arrabbiato e il diavolo è entrato in questo frangente e ti ha fatto dire delle piccole bestemmie delle cose che non devi dire perché la morte appartiene a Dio e allora il diavolo ha preso diciamo ti ha fatto lo sgambetto capito e come ha fatto un pochettino con Pietro se tu vai andiamo andiamo da a te c'è una scrittura qui Matteo 16 Matteo 16 Angelo leggi tu 22 23 ascolta questa Nicola ascolta questa scrittura Matteo 16 22 è quello che è successo a te praticamente che il dialogo può parlare attraverso la tua bocca la mia bocca la bocca di Pietro quando non camminiamo con lo scudo alzato Matteo 16 22 23 Pietro trattolo da parte a Gesù cominciò a rimproverarlo dicendo Dio non voglia Signore questo non ti avverrà mai ma Gesù voltatosi disse a Pietro vattene via da me Satana tu mi sei di scandalo tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini Matteo 17 22 23 allora quello che è successo qui stai attento bene il diavolo semplicemente ha fatto lo sgambetto a Pietro ed ecco che parla attraverso Pietro il diavolo e Gesù lo sgrida direttamente quindi quello che è successo il diavolo ti ha fatto a te lo sgambetto cioè prima ti ha spinto ad arrabbiarti poi il diavolo cavalcando l'ira ha usato la tua bocca per dire cose sbagliate capito e allora cosa devi fare devi tenere lo scudo alzato non devi quando sei quando sei con tua madre che lei c'è uno spirito diverso ma sicuramente si può pentire può essere liberato quando vuole però c'è uno spirito diverso c'è uno spirito di madonna insomma ecco allora lei diciamo ti potrebbe provocare a dire cose sbagliate quando sei con lei tu devi dargli un sacco d'amore devi pregare per lei e che il Signore la benedisce l'aiuta con la salvezza e tutto però pregare anche che tu tieni lo scudo alzato non lasciarti provocare da quello che lei può dire capisci e poi è successo poi che è arrivata tua moglie Jenny sei lì Jenny sì ecco poi è arrivata tua moglie e praticamente quando tu l'hai guardata negli occhi lo spirito del diavolo se n'è andato perché Gesù le mandò due a due capisci uno ne caccia mille di spiriti due ne cacciano diecimila quindi è stato sufficiente lo spirito santo di Dio attraverso gli occhi di tua moglie e lo spirito della falsa madonna se n'è andato e tu sei tornato in pieno controllo ora quello che devi fare perché qui dobbiamo vedere cosa è che dobbiamo fare non solo individuare cosa fa il diavolo quello che devi fare con tua madre tu devi pregare pregare che Dio la benedice che la aiuta e pregare che ti che ti protegga da qualunque spirito di di madonna eccetera che che ti potrebbero provocare quindi potresti dire cose che poi ti penti attenzione agli scatti di ira perché c'è gente che gli scatti di ira fa cose che poi che poi sono gravi quindi attenzione all'ira i proverbi 14 29 vuoi scrivere questa scrittura i proverbi 14 29 eccoci eccoci qua ok allora proverbi 14 29 scritto si ecco e proverbi 15 18 ok e quello di prima era matteo 16 22 23 perfetto ci siamo allora proverbi 14 29 dice chi è lento all'ira ha molto buon senso ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia questo è stato il tuo caso proverbi 15 18 dice l'uomo collerico fa nascere conteso ma chi è lento all'ira calma le liti va bene e allora guarda c'è stato un tempo che io mi ero sottolineato queste scritture nei proverbi e me le ripassavo diciamo quasi tutte le mattine le scritture importanti e allora se non dovresti adesso pregheremo per la tua liberazione non credo che ci cascarei più perché adesso avendo individuato da che parte entra il diavolo e quindi sei lì con i binoccoli puntati con lo scudo alzato la spada della parola pronta il diavolo non dovrebbe più vincere vincerti e darti questi problemi adesso pregheremo per la tua liberazione devi ricordarti che il diavolo è sotto i tuoi piedi nel nome di Gesù hai detto Giuseppe che non lasciare le persone che ci provocano non permettere alle persone di provocarti e come facciamo andiamo via dalla loro presenza o come facciamo niente controllati non ti arrabbiare rimane amorevole e prima oggi ho parlato di quel mio amico inglese che sorrideva sempre semplicemente ricordati che Luca 10 e 17 scrivi Luca 10 e 17 virgola 19 è scritto? Sì dice ecco dice che Angela poi tu me lo leggi dice che il diavolo è sotto i nostri piedi sotto i tuoi piedi sotto i piedi di tua moglie quindi tutto nel nome di Gesù il diavolo è innanzitutto un bugiardo cerca di presentarsi più grande di quello che è perché lui non è così grande lui e le sue potenze sono solo bugie e basta lui può solo tentare ma non può fare non può fare niente allora in realtà il diavolo è sotto i nostri piedi Angela? Luca 10 e 17 ori 70 tornarono pieni di gioia dicendo signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ecco verso 19 io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male Luca 10 17 e 19 allora dice la parola qui è Gesù che parla che vi ha dato il potere di camminare su serpenti e scorpioni e soprattutto la potenza del nemico cioè abbiamo la potenza tu e tua moglie avete la potenza di camminare sul diavolo stati uniti in amore aiutatevi pregate gli uni per gli altri non credete alle bugie che siete una setta queste sono bugie no non siete una setta siete cristiani semplici avete potere sopra il diavolo va bene e allora guarda metti un'altra scrittura proverbi 17 e 14 proverbi ma parola ce l'hai? no ce l'ho io proverbi 17 e 14 l'hai scritto? sì sì è scritto ecco lei fiangela lo leggiamo noi cominciare una contesa e dar la stura all'acqua perciò ritirati prima che la lite si nasprisca proverbi 17 e 14 allora il modo di evitare l'ira di arrabbiarti così e non cominciare neanche perché a volte noi ci arrabbiamo quando crediamo quando ci sentiamo che abbiamo ragione quell'altra persona ha torto e adesso glielo spieghiamo e lui lei ha torto e deve cambiare opinione è tutto sbagliato guardi l'uomo di Dio parla una volta parla amorevolmente e poi sta zitto perché non non possiamo convincere far cambiare opinione a una persona che non vuole specialmente se è una persona un familiare che abbiamo confidenza e sempre vogliono avere l'ultima parola allora lasciagli l'ultima parola però tu parla una volta in amore e poi basta perché non cominciare una contesa è come dare la stura all'acqua perciò ritirati prima che la lite si nasprisca poi Luca 16 10 Luca 16 10 dice che è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi che è ingiusto nelle cose minime è ingiusto nelle grandi Luca 16 10 cosa significa questa scrittura per voi come l'applichiamo a voi è necessario che tu non ti devi arrabbiare nelle cose minime nelle cose piccole perché se ti arrabbi nelle cose minime dopo ti arrabbi per quelle grandi poi arriva il diavolo e usa la tua bocca capito? sì 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 ecco semplicemente chiedi scusa a tua madre ricordati il diavolo il diavolo va attorno come il lione ruggente devi stare in guardia devi tenere lo scudo alto stai pronto sempre a difenderti dalle provocazioni come un sorriso lo spirito rilassato e il diavolo è vinto certamente che hai qualcosa dentro cioè che devi liberarti cioè quando hai rotto questa madonna è insomma qualcosa è successo nello spirito perché vedi se questo lo facevi a casa tua è nessun problema però il fatto che c'è anche tua madre lì che lei adora questa statua lei le adora e gli spiriti che le statue rappresentano sono lì a farti la guerra quindi quando parli con tua madre facilmente farete un po' di guerra eliti tu invece devi stare in alto nello spirito di Dio vedi che stai vicino a tua moglie che c'è una buona moglie l'hai guardata negli occhi tutto si è sistemato stai vicino a lei va bene ecco sì 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 ecco quindi non so io penso che io ho toccato un po' tutto c'è c'è qualche altra domanda altrimenti io vorrei finito e finiamo con la preghiera ovviamente che Gesù ti libera che ti protegge sì sì adesso prego per te ma c'è c'è qualcos'altro che vuoi dire? no no possiamo possiamo pregare tranquillamente o al momento credo che insomma la domanda più importante era capire cosa era successo e come difendere insomma ecco capire e difendersi da ciò che è successo ecco adesso pregherò per te tu sarai liberato sarai benedetto Gesù vi aiuterà però dovete collaborare col Signore quindi te e tua moglie dovete pregare insieme pregare per non provocare tua madre perché adesso tu certamente la potrai evangelizzare con calma però poi dipende da lei se vuole ricevere il la testimonianza no tua madre abita nello stesso appartamento siamo a voi o uno separato noi siamo al piano di sopra lei al piano di sotto ecco sì va bene quindi non è così difficile la cosa non è così difficile gli idoli le statue che puoi rompere buttare via va bene quelle che non puoi gliele devi ridare almeno escono di casa tua ok se devo dirla tutta avevo anche un rosario in macchina e una sera anche quello sono passato sopra un ponte e mi sono fermato e l'ho gettato nel fiume ecco giusto perché quello l'avevo preso proprio con il proposito di tenere Gesù in macchina però una volta compreso che anche questo non è non lo so quella sera mi è venuta così l'ho preso l'ho sciolto dallo specchietto ma lo sai che Gesù è sempre in macchina sì perché scusa è nel tuo cuore no ogni volta che entri in macchina tu porti Gesù no ma nel dubbio che ci fosse stato qualche spirito anche lì in quell'oggetto quando lo consideri e sicuramente ci ce ne sono sicuramente ci sono spiriti ogni religione c'è i suoi spiriti sì sì e non sono necessariamente quelli quelli del Vangelo sai perché non vediamo i discepoli andare in giro con il rosario giusto sono invenzioni delle religioni sono tutte esche per attirare la gente alla loro religione ma io credo che in questo negli insegnamenti che ho acquisito tramite voi sempre per volontà e ringraziando Dio e il buon Gesù ho avuto una grande grazia da parte di Dio e di Gesù in questo nell'essere consapevole di queste cose e forse non è neanche da tutti avere queste grazie non lo so mi fermo qui probabilmente a qualcuno magari ne avevo più bisogno di qualche altro di tanti altri non lo so comunque devo ringraziare Dio il Signore benedice tutti i Suoi figli specialmente quelli che lo cercano lo pregano lo lodano e si tengono vicini a Lui e questo dipende da noi non dipende da Dio la nostra comunione con Gesù non dipende da Gesù che dice avvicinatevi a Dio dice Giacomo e Lui si avvicinerà a voi c'è la cosa è Angela Giacomo 4.7 4.7 lo vuoi leggere? sì scrivete fratelli Giacomo 4.7 è anche il modo per sgridare il diavolo tutta questa scrittura dice come dice sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi Giacomo 4.7 e 8 quindi avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi chi fa il primo passo? noi Gesù ha già fatto il passo del Calvario ha fatto il passo di salvarci ma adesso sta a noi mostrare a Dio che vogliamo stare vicini a Lui oppure no allora avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi allora quello che dovete fare voi innanzitutto ungere tutta la tua casa metti una goccia d'olio sugli infissi delle finestre delle porte tutte la porta di ingresso che va in strada ungere la macchina che non ha incidenti e mentre le ungi queste cose di dire nel nome di Gesù Cristo consacro a Dio questa macchina questa casa queste finestre queste porte nel nome di Gesù Cristo e spiriti del diavolo qui non devono entrare fai questo poi elimina giustamente tutte le gli idoli restati della tua casa se puoi se non puoi devi dare dagli alla tua madre che si ritenga ecco ecco fai questo adesso io pregherò per te per la tua liberazione e se tua moglie vuole posso pregare anche insieme a lei per la sua benedizione e che il Signore vi libri di ogni attacco del nemico sì Jenny ci sei? sì sì ci sono ok vuoi pregare insieme volete pregare insieme a me? va bene sì ecco allora pronti non vi dice Gesù Cristo Angela preghiamo questi fratelli sì ameno sì signore veniamo davanti a te signore ameno ti chiediamo signore ma tu hai già risposto signore tu hai già mandato la tua benedizione adesso ti prego signore che dalla fede a questi fratelli di aprirsi e ricevere la tua benedizione la tua protezione ameno il tuo spirito santo ameno Jenny e Nicola volete pregare per ricevere lo spirito santo? sì nel nome di Gesù allora pregate insieme a me grazie signore signore veniamo davanti a te signore pregate insieme a me veniamo davanti a te signore che ci liberi di ogni spirito del nemico che vuole distruggerci signore scacciamo e leghiamo ogni spirito di idoli di false religioni vogliamo solo lo spirito tuo Gesù ameno solo lo spirito Gesù liberaci signore scacciamo ogni resistiamo ogni spirito del maligno e vogliamo solo lo spirito santo solo lo spirito di Cristo lo spirito santo lo spirito di Gesù Cristo signore ti prego signore che col tuo spirito santo vieni nella mia anima e mi liberi di qualunque spirito che sia del maligno che cerca di disturbarmi nel nome di Gesù signore signore battezzami nel tuo spirito santo battezzami signore nel tuo spirito santo nel nome di Gesù nel nome di Gesù vattene satana dalla mia famiglia dal mio matrimonio dal mio matrimonio dalla mia della nostra bambina Emily dalla nostra bimba Emily proteggila Gesù proteggila Gesù col tuo spirito santo signore e preghiamo anche per la mamma aiuta la signora a liberarsi di tutte queste religioni che fino adesso non l'hanno aiutata non l'hanno aiutata signore aiuta a aprire il suo cuore a te Gesù e darsi interamente a te alla tua salvezza al tuo regno nel nome di Gesù Cristo Amen Totale quanti figli avete? Tre Tre figli preghiamo anche per loro signore preghiamo per tutte e tre i bambini signore che tu li proteggi li aiuti signore io c'ho i nomi qua anche Nicola e Danny vero? Sì Nicola Danny e Danny signore preghiamo che proteggi e benedici questi bambini signore avvicinali a te signore aiutali a fare decisione giuste in questo mondo del diavolo che è così facile che i bambini entrino in problemi predici e proteggi nel nome di Gesù Amen Amen Grazie signore Amen Come vi sentite fratelli? Bene bene e contenti grazie a Dio grazie a Dio grazie signore il signore vi benedica fratelli e mi dicono che avete anche degli animali che il signore vi benedica i vostri animali li li protegga abbiamo una piccola azienda che ha costruito mio papà nella sua vita adesso noi speriamo di riuscire perlomeno a mantenerla di questi tempi Amen Amen Bene abbiamo pregato per voi che il signore benedica il vostro lavoro e vi dia saggezza su cosa fare e cosa non fare Amen Fratelli se non c'è altro io vi saluto Fratello Giuseppe io ringrazio lei ringrazio te tutti voi è stato un piacere parlare con voi grazie infinite per tutto l'aiuto che date a noi ma a tutti i fratelli che sono in Cristo Gesù Amen Amen Oh è una gioia adesso avete pregato e come ti senti adesso Nicola Ma io sono stracontento ero sereno già prima ma ancora di più adesso E Jenny come stai? Bene a me non mi tocca niente bisogna proprio no lei io dico sempre che lei è un passo avanti a me ma forse anche 4 o 5 per me lei è la colonna portante della famiglia mi sono sempre appoggiato a lei nei momenti di difficoltà quando a volte anche io vacillo o titubo lei è sempre una parola di conforto di fronte a qualsiasi difficoltà e insieme si va avanti insomma ecco Gloria a Dio Gloria a Dio Gloria a Dio Bene Jenny che Dio ti benediga Jenny vuole dire Gianna? Eh no Giovanna Giovanna è un bellissimo nome va bene fratelli io vi lascio Non mi piace tanto Giovanna Come? A me non piace tanto Giovanna è bellissimo Giovanna d'Arco Ma è morta un po' bruciacchiata però se non vado errando Giovanna in in inglese Giovanna è John John So che mi hanno chiamato Jenny però quando mi hanno battezzato il prete non lo voleva come nome loro hanno messo un secondo nome Giovanna Sì Ah ti hanno battezzato ti hanno battezzato il nome di Jenny? Jenny con la giunta di Giovanna solo in chiesa perché nelle carte del comune sono solo Jenny è un nome bello perché non ti piace scusa? No è Giovanna che non mi piace Jenny sì che mi piace Guarda che Giovanna è un bel nome si lamentano come si lamentano come Jenny no smetti di lamentarti e ringrazia Gesù Jenny e Giovanna Amen Beh in tutti questi anni penso che devo ringraziarlo più di qualche occasione non è che abbia avuto una infanzia felice però adesso sono tranquilla Amen Dio vi benedica possiate crescere insieme nel Signore leggere la Bibbia insieme pregare insieme insegnare i ragazzi insieme a crescere sull'esempio di Gesù Dio vi benedica io scappo Grazie Dio vi benedica lei e tutta la vostra missione Ciao grazie Vi abbracciamo siete preziosi e se ti capita l'occasione non so se ti capiterà non so non so cosa parli con tua madre ma quando arriverà l'occasione digli che gli voglio tanto bene nel nome di Gesù Ma io non perdo l'occasione con nessuno di agganciarmi e parlare di Gesù e quando ho l'opportunità non sono un grande evangelizzatore ma indirizzo tutti quelli che hanno voglia di ascoltarmi al Signor Fratello Giuseppe che lui saprà come posso dire istruirli su Dio e su Gesù molto meglio di me intanto faccio così poi quando sarò più bravo nell'evangelizzare magari mi spiegherò meglio io Beh non essere non ti buttare troppo giù mi sembra che non stai andando troppo male Dio ti benedica Dio ti benedica ciao Jenny ciao fratelli ciao Nicola ciao a tutti un abbraccio ciao Dio benedica alleluia alleluia grazie Gesù alleluia sono bellissimi una bella coppia si hai visto come lui l'ha guardata negli occhi e e lo spirito è andato via si 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 grazie Signore questo è capitato anche a me in passato cose così bene e c'hai un canto si mettiamo un canto e poi preghiamo tutti insieme per i fratelli che hanno richiesto preghiere e anche faremo la Santa Cena insieme fratelli preparatevi che facciamo la comunione conosco le tue debolezze la tua miseria e i tuoi peccati conosco le tue tristezze le lotte i giuramenti mancati si aspetti di essere un angelo per amarmi non mi amerei mai amami amami come sei amami come tu sei amami così come tu sei non voglio le tue virtù nella scienza nel tuo talento avrei potuto dirti molto di più ma io no non me ne pento anche quel poco che hai io mi riprenderò ti ho creato solo per amore voglio il tuo cuore che col tempo trasformerò ma ora io ti amo così come tu sei si aspetti di essere un angelo per amarmi non mi amerai mai amami amami sei amami come tu sei amami così come tu sei oggi sto alla tua porta io il re dei re busso come un mendicante chiedo l'amore l'amore del cuore a te ne morirei se tu fossi titubante se non avessi fiducia in me se aspetti di essere un angelo per amarmi non mi amerai mai amami come sei amami come tu sei amami così come come tu sei tu sei Grazie a tutti.